Mi unisco al sentimento comune che abbiamo un po' tutti in questo momento di riconoscenza verso chi non ha il privilegio, come invece ho io e altri, di poter stare a casa e quindi l'invito è anche di rimanerci a casa. E sì, il livello di responsabilità rispetto ad altri ruoli in passato è più alto e più elevato perché il camice non è un semplice costume, è una divisa che merita e il rispetto che gli abbiamo sempre portato dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a lavorare e ancora questa crisi non c'era, abbiamo sempre pensato che il camice o la divisa che indossavamo meritasse grandissima attenzione e grandissimo rispetto. Luca, tu e la tua compagna siete in attesa di una bambina, come trascorrete il vostro tempo? Ho sempre da fare nel corso della giornata, sia con una compagna in dolce attesa e quindi mi spettano molte delle faccende domestiche che lei giustamente è più in difficoltà a fare per ovvie ragioni fisiche, ha la gioia di poter preparare un pranzo o una cena per lei quindi davvero sono molto felici e comunque entusiasti. E del cinema che ne sarà? Guarda, noi stessi non vediamo l'ora di tornare sul set perché Doc lo dobbiamo ancora finire in piccola parte però temo che dovremmo aspettare ancora un pochettino, in questo momento la priorità, parlo da cittadino e non da addetto ai lavori è sicuramente un'altra, sicuramente trovare una soluzione per tutti in modo da poter tornare sul lavoro ma con un altro senso di sicurezza, di tranquillità per tutti.